Fabio Longo, ancora portiere della Folgore, speriamo per tanti anni, però preparatore dei portieri, allenatore in seconda, uno che viva all'interno da tanti e tanti anni della Folgore. Domani dovevamo giocare, cioè domenica dovevamo giocare a Sciacca, ma probabilmente un problema di questura, un problema di interpretazione di norme anti-Covid tra le società ha fatto slittare la partita, speriamo, mercoledì a porte aperte. Sì, speriamo mercoledì a porte aperte, perché da quanto si è capito c'è stata una circolare fatta da quest'ora, da quello che si è capito, per giocare domenica a porte chiuse. Sinceramente giocare a porte chiuse porta un danno sia allo Sciacca sia alla Folgore, perché giustamente domenica prossima si doveva giocare poi a porte chiuse. Ora pensiamo di giocare mercoledì e speriamo di giocare a porte aperte. Il calcio del tantistico, se gioca a porte chiuse, può rinunciare, perché non ci sono società, io penso, in grado di sopportare, di non poter avere sponsor, di non poter avere soprattutto l'affetto del pubblico. Sì, degli introiti a livello di incastro, la domenica sono delle cifre importanti per una società calcistica. Tanto fortunatamente è arrivata l'agibilità, parte l'amministrazione, è venuta la commissione di vigilanza. Sì, facciamo anche un plauso al Comune per un discorso che è arrivato all'agibilità. Abbiamo visto che hanno cambiato diverse cose all'interno degli spogliatoi, a Paolo Marino, quindi faccio l'esempio dei sanitari, le luci e tutt'altro. Quindi hanno sistemato tutto, ora c'è l'agibilità, aspettiamo l'ultimo foglio, da quello che ho capito, che è la licenza per giocare qua a Paolo Marino. Da parte della questura, diciamo che per la cronaca il Comune ha investito circa 10.000 euro per poter ripartire. Sì, ha speso delle cifre importanti per poter ripartire, ma anche penso che il nostro presidente Vincenzo Onori ha preso delle cifre molto importanti, perché se noi parliamo, ritorniamo al discorso che sapete tutti, che siamo partiti il 3 agosto e siamo partiti con un gruppo elettrogeno e quindi sono state spese abbastanza importanti, ma allo stesso tempo abbiamo dei calciatori che stanno facendo vita di sede, quindi allo stesso tempo abbiamo Vitte Alloggio che sta pagando sempre il nostro presidente, ha fatto degli acquisti. Vogliamo ricordare un attimino gli ultimi, è arrivato un portiere sotto la tua benedizione. Sì, sotto la mia benedizione è arrivato Giordano, che ha fatto gli ultimi due anni a Marsala in quarta serie, il ragazzo ce ne parlano molto bene, tra cui poi è arrivato anche un 2002 Rubino, difensore centrale, che finalmente è affermato e in settimana arriverà qualche altro acquisto, settimana prossima tra martedì e mercoledì. C'è Pellocando, quindi abbiamo Maltese, l'attaccante, Samy, lo vuoi ricordare nuove? Ad oggi abbiamo fatto una campagna acquista abbastanza importante, parliamo di Guida, parliamo di Rubino stesso, parliamo di Samy, parliamo di Corso, Francesco Corso sto parlando, Maltese, Ammoscato, quindi dico che... Appello a comprare gli abbonamenti. Sì, certo, gli abbonamenti che sinceramente ci servono e sono delle cifre che ci servono anche per mantenere una squadra in eccellenza e per un progetto futuro.